Visto l'anno in corso e per rispettare le normative legate al Covid-19, quest'anno la fiera del Capone di Morozzo viene a casa tua, così come dice il titolo stesso Capuna Cala Pula Co. La TL del Cuneese ha presentato l'evento, sentiamo il commento di Mauro Bernardi, presidente della TL del Cuneese. In un anno così difficile come quello che stiamo vivendo, causa Covid, dobbiamo obbligatoriamente riuscire a inventarci qualcosa. Quindi la meraviglia di questo territorio sta anche nella grande intraprendenza di tutti gli amministratori che stanno cercando in qualunque modo di inventarsi qualcosa per poter continuare a promuovere quelli che sono questi straordinari prodotti tipici. Anche in questo caso a Morozzo avremo la possibilità di trovare il Capone che ci verrà portato di reventa a casa, il Capunga Ca, quindi questa scatola delivery nella quale potremo degustare tranquillamente le migliori ricette del Capone di Morozzo. Quindi un altro straordinario strumento per continuare a promuovere questo territorio anche in un anno così difficile, ma sono sicuro che grazie a questi magnifici esemplari, grazie alla magnificenza del nostro territorio, riusciremo a tornare a un grande territorio che vive di turismo e di gastronomia. A parlarci della Fiera del Capone di Morozzo 2020, il sindaco di Morozzo Mauro Fissore. La formula di quest'anno è finalizzata a promuovere il prodotto, quindi non possiamo andare in piazza, non potremo avere il classico banchetto, i nostri elevatori, i legabili, i caponi, i vari opinti colori delle penne, però arriveremo nelle vostre case con questo box ed è praticamente questa iniziativa che abbiamo denominato Capunga Co, la Pula Co, praticamente il modo per portarvi i prodotti già cucinati. Questo box contiene all'interno per due persone un menù completo e quindi con questa iniziativa, grazie anche alla collaborazione della Camera di Commercio e della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo che sostiene sempre la Fiera, riusciremo anche nonostante tutto a raggiungervi. Presente anche l'assessore degli Arevelli. Quest'anno la Fiera del Capone abbiamo pensato di organizzarla in modo un po' diversa. Non volevamo tralasciare questa grande caratteristica quasi centenaria dei nostri comuni e dei nostri territori, però ci siamo adattati a quelle che sono le esigenze che queste normative ci comportano. E quindi abbiamo pensato di far arrivare a casa quello che è il nostro Capone attraverso un box alimentare all'interno del quale troveranno dall'antipasto al dolce tutto naturalmente orientato sul Capone. Ma questo non è tutto. Ad esempio per tutto il mese di novembre, dicembre e poi anche per i mesi primaverili ci sarà ad esempio a disposizione nella piazza di Morozzo durante il mercato del lunedì uno spazio dedicato proprio ai produttori di Capone. Ma in più abbiamo messo su una serie di prodotti confezionati che però possono viaggiare anche senza troppi problemi. Durante le festività natalizie potremo essere presenti sulle tavole dei nostri consumatori anche oltre i confini del Piemonte e quindi in tutta Italia.